Ed eccoci a continuazione di Apocalisse capitolo 7 verso 9. Dopo queste cose, vedi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Apocalisse 7, 9. Beh, veramente qui dice una folla che nessuno poteva contare in cielo. E se ti guardi intorno oggi nel mondo, come da che mondo è mondo, dalla caduta in poi, i cristiani sono sempre stati in minoranza, popoli di Dio, ebraico, prima, adesso i cristiani, sempre in minoranza, la stragrande maggioranza, i dinosauri spirituali, potenti, gli egoisti, i guerrafondai, i pervertiti, come i tempi di Noè, si salvarono in otto. Cioè non sembrerebbe che in cielo c'è una grande folla, la folla è qui che sono gli anticristi, giusto? Sì, e anche quando i discepoli hanno chiesto a Gesù, sono molti i salvati, vi ha detto, entrate per la porta stretta, perché pochi entrano per la via stretta. Quindi sembra che sono pochi i salvati. Sembra che sono pochi, però se mettiamo insieme tutti i salvati di tutti i secoli, ecco che c'è una grande folla che nessuno può contare, di tutte le tribù. Tribù anche spirituali, ci sono tribù spirituali che sono, per esempio, non solo della tribù cattolica, protestante, testemone di Geo. Quelle sono tribù. Per me sì, tribù spirituali. Quindi tra tutti questi, testemone di Geo, mormoni, cattolici, protestanti, sono quelli che veramente hanno amato Gesù, nonostante la loro religione. E quindi sono lì di ogni tribù. Va bene? E allora... Quindi questa grande folla sono tutti i salvati di tutti i tempi? Sì, sì. Dice naturalmente che questi qua sono passati per la grande tribolazione, ma non credo che il Signore esclude i salvati di prima. va bene? Quindi innanzitutto questa folla sono quelli che passano la tribolazione. E gli altri? Come lo sai? E Abramo e Isacco? E saranno lì anche loro. Cioè dobbiamo fare Dio più Dio fra quattro qui. Come lo sai che questi sono dalla tribolazione? Lo studieremo fra qualche scrittura. Devo saltare avanti o c'hai pazienza? Ok, va bene, aspetto. Allora, guarda, vai avanti, verso 9, andiamo avanti. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, e avevano delle palme nelle mani. E gridavano a gran voce dicendo, verso 10, la salvezza partiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Alleluia, gloria a Dio. Quindi stanno davanti al trono e lodano. Sì, attenzione, non come in chiesa domenica mattina. Qui ritrae, è un po' come Gesù lo dava a Dio in continuazione. Ha detto in Luca 18,1, pregate senza cessare. Però non lo vediamo nei Vangeli di Gesù che ogni due minuti si ferma, si inginocchia. Quindi evidentemente, e non credo che, siccome la preghiera dice sia in cielo come in terra, e allora, cioè, qui il mondo di adesso, il mondo cristiano, è o dovrebbe essere come in cielo. Allora in cielo adorano il Signore in continuazione, come dice qua. Però non è una continuazione noiosa, religiosa, ripeti una preghiera finché ti addormenti. No, è una condizione del cuore, è come il pesce che si rinfresca nell'acqua e riceve l'ossigeno dall'acqua. In continuazione, non è che pensa, fra tre minuti e mezzo prenderò un po' di ossigeno. Non è che il tuo cuore dice adesso io fra poco batto. No, batte sempre. Non stai lì a pensare che il cuore batte. Batte, non ti preoccupare. Quindi in cielo sono sempre lì a lodare il Signore, ma io come la vedo io, mi potrò sbagliare per cortesia. Tante cose che non so. Ma credo che sia una condizione del cuore, come un marito ama la moglie, la ama sempre. Non è che dici, beh, fra due minuti e mezzo la amo. No, la ami senza pensarci, una persona che tu ami, una moglie, un marito, un fratello, va bene? Quindi è una condizione del cuore che è sempre piena di amore per il Signore e per i fratelli. Cosa simboleggia il fatto che questa grande folla erano coperti di vesti bianche e avevano delle palme nelle mani? Allora, le vesti bianche sono come nel San Evangelo che c'era uno senza vestiti. E il padrone della festa ha detto che ci fai tu con qualsiasi vestiti? E quello era senza parole. Ha detto prendetelo, legatelo, mani e piedi e buttatelo fuori. Cioè non solo perché cortesia si accomodi fuori, legatelo, mani e piedi e buttatelo fuori. E le vesti bianche sono, rappresentano la fedeltà, la purezza, la fede. E' un po' come l'olio delle vergine nelle lampade, rappresenta la nostra fede, rappresenta che ci siamo preparati. Le vesti bianche. Anche in Apocalisse 19, 7 a 9, la sposa le fu dato di vestiti con vestiti bianche. I vestiti bianchi rappresentano la purezza. E' un po' come il Cavaliere Apocalisse 6, Cavaliere Bianco, che molti cristiani dicono, molte chiese dicono, è l'anticristo. No, quello bianco è Gesù Cristo, il diavolo sono gli altri, i neri, i giallastri, i rossi. Quindi il colore rappresenta la purezza. E quello che hai citato Apocalisse 19, 8, dice, alla sposa le è stata dato di vestirsi di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Ecco, riferimento? Apocalisse 19, 8. Ecco, sì, quello che sta parlando è del matrimonio della sposa. E' un po' un parallelo di questo. Però dice che quelli che hanno opere giuste dei santi sono quelli che saranno vestiti di bianco. Sì, esatto. Quindi dipende dalle opere? Opere in Cristo, sì. Non è la salvezza questa? Non è la salvezza. Salvezza è il sangue di Cristo, che uno può essere salvato e adesso è l'audicea, la chiesa del vomito. Quindi questi che stanno davanti al trono? No, questo qui, questa è la parte che fai tu. Il Signore fa la sua parte sul Calvario e ti salva. E tu che fai niente, sempre grattarsi allo stomaco e dire, uh, sono sotto la grazia, che bello che non faccio niente. Che bello non fare niente, grazie, grazie. No, no, caro. Quelle sono, come dice, le opere giuste dei santi. Apocalisse 19, 7 e 9. Vuol dire che questa folla grande che nessuno può contare non sono solo i salvati, ma anche quelli che hanno opere, sono vestiti di bianco, sono i più fedeli? E quando questa differenziazione io non lo so. Ti rispondo a quello che so, a quello che non lo so, te lo dico. Cioè, solo un pazzo va a pretendere di rispondere a tutte le domande. Eh, va bene. Va bene, lasciamo così, nel semplice. Quello che non so, te lo dico. Però io quello che so è quello che posso supportare con la parola. Se non c'è parola a supportare, ti potrò dare un'opinione, ma le opinioni non sono importanti. Sono come i carciofi. E le palme cosa rappresentano? Eh, le palme rappresentano un simbolo di gloria. Se tu vedi la palma bellissima, che è uno degli albi più belli che ci sono. Infatti, anche nel Vangelo, gli presero i rami di palma per glorificare il Signore. E, guarda, se vuoi dire Giovanni 12, verso 12, Giovanni 12, verso 12, lì parla di quello. Ci sei? Sì. Ecco, continua fino al 15. Grazie. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto. Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina. Giovanni 12, 12 a 15. Alleluia. Quindi le rami di palme erano usate quando lodavano? Per glorificare. Per glorificare, lodare, era come un simbolo. La palma è un albero bellissimo. Andiamo avanti? Sì. Verso 11. Apocalisse 7, 11. E tutti gli angeli cosa facevano? E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio. E dicendo Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Abbiamo spiegato al capitolo 1 che questi qui, secondo me, come l'interpreto io, sono i sette spiriti di Dio. Perché Apocalisse 1 dice Dio c'è sette spiriti. E secondo me sono questi. Se mi sbaglio non cambia niente. Va bene? Eh sì. Amen. Gloria al Signore. Sì. Grazie Gesù. Questi sette sono i spiriti di Dio, ma anche noi dobbiamo avere ringraziamento, onorare, avere la forza di Dio, no? Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo? Eh sì, perché quando vieni battezzata in uno spirito santo, ora c'è lo spirito santo della salvezza che ti salvi e ricevi un minimo di spirito santo sufficiente per la salvezza. Poi c'è il massimo dello spirito santo che si chiama il battesimo dello spirito santo. Quando ricevi il battesimo dello spirito santo, secondo Luca 11, 9, 10, 13, e basta chiederlo. Grazie. Ma, virgola, con tutto, tutto, tutto il cuore. Amen. Amen. E darsi una mossa anche. Grazie, Signore. Io vi direi, Signore, la parola, studiarla, riceve, memorizzarla, predicarla, nel possibile. Uno dice, io non riesco. Insomma, se no puoi fare un metro e mezzo, fai un millimetro e mezzo. Ci siamo? Amen. Quando ricevi il testo del spirito santo, praticamente ricevi anche questi sette spiriti. Sai? Bello. Perché sono tutti lo spirito santo. Tutto il regno di Dio è racchiuso nello spirito santo. Non c'è niente che lo spirito santo non racchiuda del regno di Dio. Tu, quando ricevi il spirito santo, ricevi, guarda, vai alla lista. Ricevi la benedizione, sì o no? Sì, certo. Ricevi la gloria di Dio che tu glorifichi Dio? Sì. Ricevi la sapienza di Dio? Sì, la parola. Per sapere che devi amare Dio e i fratelli. Sì. Ricevi il spirito di ringraziamento e di ringraziare il Signore? Certo, sì. Va bene. Ricevi l'onore di Dio che Dio ti onora quando ubbidisci e tu gli dai onore? Sì, amè. Ok. E la potenza e la forza la ricevi per fare miracoli, liberazione, cacciare il diavolo? Sì, sì. Allora, quindi, hai detto sette sì. Sì. Vuol dire che ricevi tutte queste potenze quando ricevi il battesimo dello Spirito Santo. Grazie, sì. Luca 11, 9 a 13 mostra che basta... Chiedere. Chiederlo. Alleluia. Amè, sì, bellissimo. E allora andiamo avanti. Apocalisse 7, 13. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo, Chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? Quando il Signore, un angelo, ti fa una domanda, non è che vuole che tu lo istruisci o che vuole informarsi o che vuole che te gli dè informazioni che lui non conosce. Ma più che altro, è un modo come un altro per dire, tipo, puoi svegliarti per quanto sia, puoi fare delle domande. Ah, sì? E certo, quando un angelo ti fa la domanda, ti sta dicendo, va bene, va, visto che sei mezzo addormentato, la faccio io per te. Ah, come fai tu alla radio? A volte fai tu le domande, perché io qui aspetto. E tu sei lì che... Ho capito. Ti godi lo spettacolo. Allora, verso 14. Uno degli anziani disse, Chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli dissi, Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse, Costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e li hanno imbiancati nel sangue della niente. Apocalisse 7, 13 a 14. Alleluia, gloria a Dio. Hai capito la risposta? Wow. Ecco, l'angelo sapeva già la risposta. Sì. Però siccome Giovanni era talmente affascinato, stravolto, mamma mia, cosa mi succede? Quasi non mi crederanno. E allora dice, Chi sono questi? Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. E troviamo un parallelo al 7, 14. Lo troviamo in Apocalisse 20, verso 4. Ce l'hai lì. Apocalisse 24, sì. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Apocalisse 20, verso 4. Gloria, 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 gloria. Verso 15. Sono i stessi, quelli di Apocalisse 20, sono i stessi come la grande folla di Apocalisse? Sì, sì, sì. Ma sono in tanti? Sì, dice tanti. Ma guarda che Dio deve riempire gli estimi solari, i pianeti, le galassie. Noi vediamo in Luca 19, nella parabola delle mine, nella parabola dei talenti. Dice sei stato fedeli con cinque mine, o cinque talenti, e eccoci, io ti porrò sopra cinque città. Dieci talenti, dieci città. Due talenti, due città. Cioè, cosa sta dicendo qua? Che quando il Signore benedirà la sua sposa in cielo, i premi non saranno quattro caramelline, un biscottino, no, no, un ciucciotto in bocca. No, cose serie che stiamo parlando. Quando dice Apocalisse 20, verso 4, vi di troni e quelli che si misero seduti, fu dato di giudicare. Sta parlando del corpo di Cristo, che Cristo giudicherà Israele, giudicherà le chiese dell'Odicea, giudicherà i cristiani mezzi addormentati, disobbedienti, attraverso di chi? Attraverso di te, di me e di altri, quelli che Dio sceglierà, io non lo so chi sceglierà, che sono stati fedeli, e Gesù giudicherà Israele, giudicherà il regno di Dio, attraverso quelli di noi che sono fedeli, noi il corpo di Cristo. Capito? Teniamo questo ben presente. Andiamo verso 15? Sì, Apocalisse 7, 15. Per questo essi sono davanti al trono di Dio, e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro. Verso 16. Essi non avranno più fame, né sete, non li colpirà più, né il sole, né arsura alcuna. Gloria a Dio. Bellissimo. Tutte le sofferenze che adesso stanno passando, fratelli, svaniranno come un battito dalle ciglia. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. E quando riapri gli occhi, sai cosa vedi? Gesù. Gesù. Luce, amore. Oh, grazie Signore. Vedi Gesù, che il suo cuore è pieno di lodi a Dio, e noi anche. Andiamo al 17. Perché l'agnello, che è in mezzo a loro, a questa folla immensa, li pascolerà, li guiderà alle vive fonti delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Wow. Gloria a Dio. Qual era l'Apocalisse 7, 17? Fratellini, siete pronti? No. Non sembra incredibile, ma è la verità. Perché? Perché lo dice la parola. In base a questi versi, 15 a 17, che abbiamo appena letto, apparirebbe che questi sono membri, questa grande folla, della Nuova Gerusalemme, che scende dal cielo, che è la sposa di Cristo. questa è la grande folla. Secondo me è la sposa di Cristo. Non lo dice, ma a volte devi andare per indizi. Ma la grande folla che nessuno può contare, vuol dire che la sposa saranno in tanti? tra tutti i secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli. Ah sì, perché adesso se guardi alle chiese, non vedi tanti che sono attivi, che raggiungono i perduti, che si danno da fare. E quindi, credi che nella tribolazione le chiese si sveglieranno un po'? Sicuramente, ci piacerà l'Anticristo. Non si sono svegliate col Vangelo, non si sono svegliate quando Gesù è dato di svegliarsi, come Dio parlava a Israele attraverso Geremia, nel VI secolo a.C. e Israele non voleva svegliarsi con Geremia, il profeta, e allora il Signore come svegliò Israele, come la portò a pentimento, Angela? Attraverso? Punizioni. Attraverso punizioni, attraverso Babilonia, attraverso la prigionia, 70 anni di prigionia. La Chiesa Mondiale sarà prigioniera dell'Anticristo per sette anni. È già prigioniera adesso, perché vuole l'otto per mille, e vuole l'edificio, e vuole il ciucciato in bocca, e vuole la panca calda la domenica, e vuole servire il mondo e non Dio. Guarda, stamattina abbiamo ricevuto una mail da parte di Roberto che dice, fratelli, io vivo a Norimberga e la scorsa settimana abbiamo avuto i giorni della Chiesa. Qui è durato tre giorni. E un pastore ha tenuto una messa davanti a centinaia di persone dove ha detto, cito, Dio è, puntini puntini, usando attributi che sono pervertiti e blasfemi e delle parole e termini che non sono solo false ma anche offensivi verso Dio. Ero senza parole. Le Chiese qui sono impazzite. Sì, sì, ma è così, è così, è come l'otto in Sodoma che credeva in Dio, ma Dio amava i sodomiti, Dio amava le perversioni, perché sennò l'otto non sarebbe rimasto lì. Poi quando è arrivato il fuoco del cielo, l'otto si è svegliato un pochino ed è andato, scappato, quasi nudo scalzo, quasi, è andato ad abitare in una caverna dove commisero incesto, perdendo la moglie che per strada divenne una statua. L'otto è un'immagine della Chiesa di oggi. Sono lì a cercare di compiacere il mondo, se no non ti danno l'otto per mille, l'esenzione delle tasse, non puoi dormire sei giorni e far finta di predicare il settimo, clicchi su internet, scarichi un sermone da internet e predichi un sermone congelato o surgelato e la gente tanto non capisce la differenza perché l'hanno addestrata bene a non studiare nella Bibbia le profezie, capire quello che succede. Signore Gesù aiutaci. Guarda, andiamo alla Nuova Gerusalemme, vuoi? Sì. Perché mi sembra che questi qui hanno molta attinenza con noi a Gerusalemme anche se possiamo essere super dogmatici perché non dice la sposa di Cristo, però dice i panni bianchi lavati dal sangue, cioè mi sembra l'escrizione della sposa. Allora, stiamo parlando della grande folla di Apocalisse 7 e vuoi ripetere verso 15, a favore? Apocalisse 7, 15. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio e colui che sede sul trono dimorerà tra di loro. Apocalisse 7, 15. Ecco, se questi qui sono davanti al trono di Dio, ecco, in continuazione, chi sono? Questa è la sposa, no? Sì, sì, sì. Certo. Non c'è niente di più eccelsi del trono di Dio. Sì. Questa, secondo me, è la sposa. Ora, vediamo il parallelo della sposa di Cristo in Apocalisse 21, 3. Vuoi andare lì? Sì, Apocalisse 21, 3. E udì una gran voce dal cielo che diceva, Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Apocalisse 21, 3. Gloria a Dio, gloria a Dio. Anche in Apocalisse 22, 3, e qui non ci sarà alcuna maledizione. Se oggi anche i cristiani hanno il cancro, questo, quell'altro, ci vuole fede, con la fede guariamo. Non ci sarà qui nessuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio dell'agnello, i suoi servi lo serviranno. Ora, se noi torniamo alla grande folla di Apocalisse 7, Apocalisse 7, versetti 16 e 17, dice la stessa cosa. Qui abbiamo letto Apocalisse 21, 3, che è la nuova Gerusalemme. Torniamo a Apocalisse 7 della grande folla. Vediamo se la grande folla e la nuova Gerusalemme è la stessa cosa. Allora, in Apocalisse 7 abbiamo letto, non avranno più sete, non li colpirà più il sole, né arsura alcuna. Perché? Perché è l'agnello che è in mezzo al trono, li pascolerà, li guiderà alle vive fonti dalle acque e Dio asciugherà ogni lacrime dei loro occhi. Praticamente è un parallelo, Apocalisse 22, 3, con Apocalisse 7, 16 e 17, è un parallelo con la nuova Gerusalemme. Quindi per questo che io dico, questi qui a me sembrano che, sto parlando della sposa di Cristo, certo potrebbero essere cristiani salvati in cielo senza essere sposa, però quegli indizi sono troppi qua. Questa è la sposa di Cristo. Gloria a Dio. Non ci sarà più maledizione, e sono lì davanti al suo trono, e Dio abiterà con loro. Per me è lo stesso messaggio. Guarda, andiamo a Apocalisse 21, 6, che parla da noi a Gerusalemme. Apocalisse 21, 6. Sì, ci sei. E mi dissi ancora. E mi dissi ancora. È fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi è sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21, 6. Quindi è un parallelo perfetto con la grande folla, perché Apocalisse 7, 16, 17, dice non avranno sete, non li colperà il sole, l'arsura. Sì, è vero. E Apocalisse 21, 6, Gerusalemme dice a chi ha sete darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Allora, chi sono questi qui, vestiti di bianco in Apocalisse 7? Io direi, va bene, la sposa di Cristo. Ma come è una folla grande? È una folla grande. È una folla grande. Ma quello ci dà speranza. Capito? Ci dà speranza che ci siamo anche noi. Amen. Gloria a Dio. Amen. 21, 4. Lo leggi tu? Apocalisse? Sì. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più morte. Né cordoglio. Né grido. Né fatica. Perché? Perché le cose di prima sono passate. E sono passate perché, come dice Apocalisse 7, 17, perché l'agnello che è mezzo al trono li pascolerà, li guiderà, le vive fonti dalle acque. Come vedi, praticamente è lo stesso paragrafo, lo stesso messaggio. Gloria al Signore. E come possiamo assicurarci che noi saremo lì, in quella folla grande, davanti al trono? E com'è che posso assicurarmi io, te e tutti? E si tratta di dare tutto il cuore a Gesù, tutta l'anima, tutta la mente. Cioè essere come gli apostoli. Non è che dobbiamo fare tutti i miracoli che hanno fatto loro. Io non sono uno che è un oratore come Paolo. Non sono come Pietro che un pochettino ha camminato sull'acqua. No, sono distante da questi. Però nel nostro piccolo facciamo... Cioè se Paolo ha fatto un metro, noi possiamo fare un millimetro. Se Pietro ha fatto un metro, noi possiamo fare quello che possiamo. Non possiamo camminare sull'acqua, neanche pochi metri, però possiamo camminare sulle acque dei problemi, sulle acque degli scoraggiamenti, sulle acque delle mormorazioni che non ci tocchino. Una buona domanda è la tua, cos'è che possiamo fare? È chiaro che non desidera essere vicino a Gesù. Sì. E verso 11 dice tutti... Apocalisse 17, tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e gli anziani, i quattro esseri viventi, si prostrarono. Cioè la loro faccia davanti al trono, adorarono Dio. Beh, quello che possiamo fare è di fare questo. Non aspettiamo che siamo in cielo. Lì adoreremo Dio con tutto il cuore. Ma può darsi che non sei chiamato davanti al trono. Come non sei chiamato? Può darsi che... Dio decide chi chiama, chi non chiama. Può darsi che nella vita qui siamo stati lazzaroni. Non abbiamo dato il nostro cuore a tutto quanto a Gesù. Abbiamo dato una parte del cuore al mondo. Siamo nel mondo, ma dobbiamo essere del mondo. Lavoriamo anche nel mondo, alcuni di noi, però non è che devi servire il mondo prima di Dio. Il mondo, il servizio per il mondo, il lavoro, il salario, queste cose qui, sono per sostenerti, sostenerci nel servizio di Dio. Attenzione che servendo il mondo non diventiamo del mondo. E allora il messaggio qui è che adorarono Dio, o l'adorano, si prostrano. Il fatto è che se vogliamo fare parte di questi, dobbiamo cominciare adesso. Non possiamo cominciare in cielo a prostrarci davanti a Dio, a cercare la sua volontà, a ubbidirla, a mettere l'olio nelle lampade. L'olio nelle lampade lo metti adesso. Quando arriva lo sposo, che sarà la pimento, che sarà la nostra morte, e ci presentiamo davanti al Signore, non è il momento di cercare olio. Non è il momento di andare, di sotterrare il talento sotto la sabbia del mondo, del lavoro mondano, dell'egoismo del mondo, del materialismo del mondo. La sabbia dalla mondanità, di sotterrarla da queste sabbie, e adesso vado a servire Gesù, perché sono morto e sono qui. Ebrei 9,27 è dato agli uomini una volta di morire, e poi viene il giudizio. Fratelli, io non mi stancherò, e mi avete già sentito dire questo in passato, non mi stancherò di dire, adesso è il momento di mettere l'olio nelle lampade. E purtroppo, devo dire, dalle messaggi che riceviamo nella nostra chiesa, diversi di noi non stanno lavorando a mettere l'olio nelle lampade. Si stanno preoccupando dei soldi, la mia casa, la mia macchina, questo e quell'altro, io voglio, io desidero, voglio che mia moglie sia così, voglio che il marito sia così, da voglio, voglio, l'erba voglio cresce nel giardino del re, e non credo neanche là. Neanche il re dice, mi sveglio la mattina, io voglio. E deve chiamare i consiglieri, il ministro, tutti, e quelli diranno, maestà, tra dire e fare, si è di mezzo al mare, quante guerre hanno perso, perché il re volevano, e sono finiti i morti. Allora, fratelli, adesso è il momento di prostrarci davanti al trono, adesso è il momento di dare a Dio quello che si merita, dargli le nostre benedizioni, portargli gloria, facendolo con sapienza, con ringraziamento, e dargli l'onore che si merita, perché Lui ha la potenza, Lui ha la forza, a Lui appartengono nei secoli dei secoli, come dice 7-12, Epocalisse 7-12, nel nome di Gesù Cristo. Quando il cammino diventa difficile, leggere queste scritture qui, che ci incoraggiano, che ancora un po', e poi verrà il tempo, che non ci saranno più lacrime, sofferenze, l'agnello sarà lì per consolarci, abbracciarci, aiutarci. Sai, dice che c'è la forza e la potenza, sono due spiriti di Dio, fratelli, quando riceviamo lo Spirito Santo, ma anche solamente quel pizzico di Spirito Santo per la salvezza, che non è battesimo, in quel pizzico di Spirito Santo c'è la potenza, c'è la forza di Dio, puoi pregare per gli ammalati e guariscono, non perché tu sei così in gamba, o così straboccante del Spirito Santo, che ancora non è riuscito neanche il battesimo, però c'è la salvezza, con lo Spirito Santo della salvezza, puoi mettere una mano e credere, e guarisci. E libri da demoni. Fratelli, diamoci da fare, diamoci una mossa. Abbiamo la potenza, abbiamo la forza di Cristo. Grazie, Gesù. Diamoci una mossa e una smossa. Grazie. Va bene, remiamo la barchetta fuori dal molo. Sai, il molo alla barchetta non esce, è incastrata nel molo. E allora cosa fai? La giri piano piano, la giri piano piano, e poi remi piano piano, ti svincoli dal molo, alzi le vele, dirigi la vela di qua o di là, e la barchetta comincia a muoversi. Se tu non remi fuori dal molo, dal molo dell'insidia, dal molo delle chiese addormentate, le chiese morte, una vita mezza morta, un amare un po' Dio, un po' mammona, se non ci svincoliamo dall'amore dei soldi, l'amore della carne, l'amore della pornografia, l'amore del bere, l'amore dello sport, l'amore della televisione, l'amore di essere lazzaroni, se non usciamo da questo molo, Dio manda il vento, il vento soffia sempre, di solito, ma le nostre vele non sono spiegate, siamo incastrati in un molo religioso e dobbiamo remare, e a volte remare contro le opinioni degli addormentati intorno a noi, che a volte non è sempre che noi dormiamo, ma a volte dormono quelli intorno a noi, in ogni caso, remare piano piano, hai visto mai le barchette uscire dal molo? Piano piano, le spingono, le tiro con una corda, remano, anche le navi dei secoli passati, i bastimenti, le grandi navi, anche quelle dal molo uscivano a remi, tirate da scialuppe, abbiamo visto anche dei documentari, scialuppe con le corde che remavano, per tirare la nave, piano piano, per girare, metterla in posizione, vele al vento e poi il vento la portava. Fratelli, se non remiamo per uscire dal molo della pigrizia, il molo dell'incredulità, il molo della disubbidienza, il molo del mondo, il vento di Dio non potrà sospingere la nostra fede. La nostra fede è come le vele, le vele sono come la fede, apri la fede e il vento ti porta e allora non devi più remare, è il vento che trasporta la tua nave. Nel nome di Gesù Cristo apriamo il cuore, apriamo l'anima, apriamo la mente, a cosa? Al vento di Dio, cos'è il vento? L'ubbidienza, la fede, fare la nostra parte, e il vento ci trasporterà perché il vento si chiama, in queste sette spiriti, andiamo lì, ai sette spiriti, ecco, verso 12, Epocrisa 7,12 dice, a te pertiene la benedizione, la prima cosa dei sette spiriti è la benedizione. Cosa farà Dio se ti vede remare, sudare per uscire dal molo? Ci può volere un giorno, a volte ci vuole, cinque minuti, no, io con te non ci voglio stare, non ti sposo, niente, tu come fidanzato o fidanzata, a te non parli mai di Gesù, Gesù non lo serve, cinque minuti me ne sono andato. A volte c'è situazione che ci vogliono mesi a uscire, a volte sei incastrato, Gesù ci ha messo trent'anni a uscire dal suo molo e Gesù rema, e dove è andato? Remando, remando, è andato a un fiume, come si chiamava? Giordano, a incontrare il suo cugino, come si chiamava? Giovanni Battista. Giovanni, e Giovanni cosa gli ha detto? Io, io, io dovevo essere battezzato da te, sono io il disastro, va bene? E allora si è battezzato, è uscito dal molo e poi dove è andato? È andato in un deserto, è dovuto aspettare 40 giorni che il diablo si facesse coraggio a uscire, e poi ha preso la spada dalla parola, gliel'ha sbattuta sulla sua corna e ecco il diavolo che fugge alla velocità ipersonica. E' la sua storia, sappiamo. Grazie, signore. E dopo, sai cosa succede dopo? No. Ci fermiamo, perché finiamo il capitolo qui, perché sennò diventa troppo lungo l'idea di questo studio sull'Apocalisse è di tagliare corto. Nel nome di Gesù Cristo, Amen. Amen, grazie, signore. Un bacione, fratelli, un abbraccio, vi amiamo tanto, tanto, tanto. Amen. Amen, fratelli, Dio vi benedica. Scriveteci se avete domande o se volete condividere vittorie, problemi, qualsiasi cosa il Signore vi mette nel cuore. Vi abbracciamo forte. Specialmente vittorie, specialmente cose incoraggianti. Va bene, ci sentiremo. Il prossimo passo sarà Apocalisse 8. Amen, sì. Non mancate, fratelli, le sette drombe della tribolazione, fratelli. Amen, grazie. Apocalisse 8. Ciao a tutti, Dio vi benedica. Ciao, un bacione.